eccola è un barbo, sembra una carpa specchio, un bel carassone eccola è un bel carasso, mamma mia che carasso grosso, sembrava una carpa mi sono accorto subito che era qualcosa che non poteva essere una carpa perché non è partita, non ha tirato e aveva già precedentemente mangiato a pezzi il mais di solito la carpa non si comporta così beh, perlomeno abbiamo salvato il cappotto sì, infatti è un carasso bello grosso un carasso di un chilo abbondante direi anche due adesso vediamo di portarlo a Guadino questo lo andremo a mettere nella fontana di ritrova anzi di Biancino dove troverà un abitato bellissimo dove vivere eccolo qui ecco qui, che bel carasso, mamma mia grosso quanto una carpa carassi grossi così, di questa dimensione beh, si può dire che sono eccezionali difficile prendere dei carassi così grossi sembra una carpa da quanto è grosso sarà un paio di chili un bel esemplare da mettere nella fontana la fontana di Biancino è un posto dove stiamo facendo un ripopolamento col permesso della provincia di Vercelli veramente bello grazie